Finalmente abbiamo l'acqua, rubinetti che funzionano, rubinetti che emanano acqua calda, cosa che prima non si aveva, finalmente acqua in cucina, finalmente acqua in cucina. Abbiamo avuto anche altri lavori, altri lavori sono la caldaia, revisione dei fumi della caldaia, 160 euro, Dio non li dia ma bene. Poi si prosegue, si prosegue con altri lavori in casa, potete venire a vedere, si va verso il bagno, e verso il bagno abbiamo miscelatore nuovo al rubinetto del bagno, finalmente li abbiamo all'acqua, dopo anni e anni si stava usando solamente un rubinetto solo, ora finalmente i rubinetti di casa, come vedete, potete finalmente vedere che funzionano, acqua calda che arriva, quindi altro lavoretto fatto in casa. Abbiamo riparato il cesso, il cesso, come vedete, è un rubinettino nuovo, funziona. Come potete vedere non perde nemmeno un goccio, finalmente anche in bagno abbiamo l'acqua. Come potete vedere, questo era il vecchio raccordino del cesso, aveva ragione a perdere, non se ne poteva più. Quindi, finalmente, lavori in casa eseguiti. Però, una cosa che si deve dire, ma è sempre stata, sono partite 450 euro. Te, Morfeo, che ne pensi? Eh? Te che ne pensi, Morfeo? Eh, miau, 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 una sega, miau. Comunque, signori, con il miscelatore nuovo è tutta un'altra cosa. Acqua calda e acqua fredda, come se piovesse. Una soddisfazione era così, era da una vita, che io non avevo una soddisfazione così. Il miscelatore nuovo, eccolo qua. Ma guardate che bellezza, che bellezza è il miscelatore nuovo nel mio lavandino. Eccolo qua. Acqua fredda, acqua fredda, acqua calda. Acqua calda. Abbiamo l'acqua calda in questa casa. Uh, quant'è calda, quant'è calda. E poi, e poi, signori e signori, acqua fredda. Acqua fredda, acqua fredda, acqua fredda, acqua fredda. Uh, quant'è fredda. Però abbiamo anche, signori e signori, l'acqua giusta. Con un'acqua giusta così, è uno spettacolo. Eh? Che ne pensi, Morfeo, di questa acqua? Eh, miau miau. E' solito miau miau. Miau miau, una bella sega.